Salve a tutti e ben tornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come cambiare lingua a Tekken 8 quindi mettere così la lingua italiano sul gioco ovviamente per quelli che l'hanno scaricato è uscito così in inglese oppure in un'altra lingua quindi in questo caso tu vai direttamente nella sua cartella di Tekken 8 vai su Tekken 8 vai su Polaris Pinanis U64 scendi fino a giù fino a trovare il file Steam trattino basso emo ci clicchi sopra uscirà così questo documento con pieno pieno zeppo di codici ed eccolo qua language e noi metteremo così italian una volta fatto vai a salvare così il documento chiudi qua e andiamo ad aprire Tekken 8 su Polaris Pinanis U64 Shipping e lo seguo come amministratore ed ecco il nostro Tekken 8 ed ecco Tekken 8 in italiano come puoi vedere store offline online personalizzazione opzioni quindi se questo video ti è stato utilissimo su come applicare così la lingua italiano su Tekken 8 iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Ciao